Ciao e benvenuto in questo nuovo video! Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di un piccolo levriero, il Whippet. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like, in questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati! Il Whippet è una razza canina appartenente al gruppo dei levrieri, con origini britanniche piuttosto recenti. Viene infatti selezionata nel XIX secolo per la caccia alle lepri e conigli serbatici. Probabilmente la razza deriva dai vari incroci con il piccolo levriero italiano e con vari tipi di terrier. Una piccola curiosità, nella serie E. Simpson il cane della famiglia chiamato il piccolo aiutante di Babbo Natale è proprio un Whippet. Per quanto riguarda la morfologia è una taglia piccola media, caratterizzata da una corporatura lunga ed esile, che esprime grazie ed eleganza, ma allo stesso tempo ha una forza invidiabile. Il suo principale tratto caratteristico è la sua testa lunga e simpatica. L'altezza prevista dallo standard della razza è tra i 47 e i 51 centimetri al garese, per i maschi, mentre per le femmine è qualche centimetro in meno, mentre per il peso oscilla tra i 18 e i 21 kg. Il pelo invece è mediamente lungo, dritto e ruvido, mentre il sottopelo è invece morbido. Le colorazioni del mantello possono essere varie, bicolore con linee bianche, completamente nero, grigio, tendente al blu e color sabbia. Tende a perdere poco pelo, ma bisogna fare attenzione durante la spazzolatura ed essere gentili ad usare spazzole morbide, poiché la loro pelle è molto sensibile. Anche lo shampoo usato deve essere delicato e senza ingredienti aggressivi. Ha un carattere molto dolce, affettuoso, gentile e paziente. È una razza con un temperamento piuttosto equilibrato. Con il proprio padrone tenderà ad essere molto più affettuoso e legherà molto, ma non sarà di meno con la sua famiglia. Il Whippet è il cane che adora vivere in ambiente domestico, poiché ne adora le comodità e un compagno ideale per le famiglie. Nonostante le sue prestazioni atletiche, è comunque un cane tranquillo, che necessita di uscite giornaliere in ampi spazi liberi per scaricare tutta la sua energia. È sconsigliato come primo cane, poiché è adatto piuttosto a proprietari più esperti. Grazie al suo temperamento pacato, non ha problemi a stare con i bambini. Allo stesso modo, non ha problemi nell'interagire con altri cani né con estranei. Questa razza ha un'aspettativa di vita dai 12 fino ai 15 anni circa e gode di una buona salute generale assicurata dalla sua selezione mirata, che lo ha reso un cane forte e robusto. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza tranquilla ed equilibrata come il Whippet. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi il meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremmo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto! Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondocane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio! Ciao!